NM è un lavoro che come sapete stiamo facendo con grande forza, grande passione, grande coraggio, grande determinazione, cercando la massima cooperazione tra tutte le istituzioni, continuiamo a vedere, a leggere, a verificare che nei confronti di alcune città ci sono interventi di natura speciale, l'abbiamo visto più volte per Roma, forse si riproporrà addirittura un'altra volta per Roma, da quello che si ascolta addirittura di un'altra legge speciale per Roma, l'abbiamo visto per Milano, adesso lo vediamo per Torino, noi stiamo a sostenere le battaglie di tutti i sindaci e nella manovra che si sta discutendo in Parlamento abbiamo portato delle proposte che servono a tutti i territori, a tutte le città, a tutti i cittadini del nostro paese uniti nelle diversità. Napoli non ha mai chiesto leggi speciali né salvacondotti, noi vogliamo quello che ci spetta secondo giustizia e non accetteremo più discriminazioni, quindi per noi questo a proposito di trasporto pubblico è un tram importante, non ce ne sono altri di tram, questo è un tram per capire se il paese, governo e Parlamento investono con i fatti e non a parole per i territori e per le città oppure ci troviamo di fronte a un'altra grave occasione persa nel nostro paese. Io ho fiducia e poi verifico che mentre la mia fiducia e la mia pazienza e la nostra pazienza è davvero infinita, in altre parti del nostro paese si portano a casa provvedimenti di natura speciale, ma questa è una storia che abbiamo già visto nel nostro paese con stagioni politiche di un certo tipo e con le nuove stagioni politiche.